Per tutta la vita, Lee Ann Watson si era comportata bene. La sua unica speranza di lasciare la provincia è una borsa di studio che va al migliore studente del suo liceo. Le basterebbe prendere un buon voto in storia. C'è solo un problema. L'insegnante di storia. La signora Tingola ha un odio per me. Quella odia tu, ti odia perfino me. Quando entro in classe è Lee che mi aspetta pronta a strapparmi la pelle e a far scorrere il sangue. Che cos'è questo? Oh, è solo l'esame finale di storia. Invitante? Striscia via, serpente. Andiamo. La migliore allieva della scuola colta a imbrogliare. Sarà uno scandalo. Ci farai spellere, niente diploma né altro. Le spiegheremo che tu non sentri niente. Sono innocente. Anche gli innocenti a volte bruciano sul rugo. Ora fuori dalla mia casa. Non così in fretta. Che cosa credi di fare? Non puoi trattare la gente come fai tu. No. Non fare lo stupido, posa quell'arma. Ha perso, signor Churner. Oh, oh. Kevin Williamson, l'autore di Dawson's Creek e Scream, ci presenta un nuovo film. Signora Tingola. Oh mio Dio. La respirazione bocca a bocca. Non guardate me. Un nuovo terrificante film. Occhio alla testa. Scusa. E ora? Quando si sveglia ci ragioniamo. Ora, tre amici. Manteniamo la calma. Cercano la strada giusta. A voi muovere. Per uscire da una situazione di cui hanno perso il controllo. Che le prende, signora Tingola? Inizia ad avere paura anche lei. Oh no, cara. Sto iniziando a divertirmi, casomai. È da vent'anni che terrorizza i suoi studenti. Quella che ho riservato a te è una sorte peggiore della morte. Quest'anno saranno loro a darle una lezione. Killing Mrs. Tingle. Nogun. 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 Grazie a tutti.